Mi ha detto cosa ci faccio qua, io non ho commesso nessun reato e sento di essere sereno, sono innocente. Quindi dobbiamo solamente fare una battaglia in questo caso, che ci sono molte discordanze sulle ordinanze e tant'altro. Quindi da oggi in poi ripartiamo alla grande, speriamo che parlerà e adesso vedremo. Un rapporto di fiducia tra assistente e assistito che si è interrotto. Così l'avvocato Francesco Zaccheo, nuovo legale di padre Gratien Alabi, in carcere dal 23 aprile scorso con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere, giustifica il cambio di difensore richiesto dallo stesso frate congolese. Da settembre ad assistere padre Gratien era stato l'avvocato del foro di Arezzo Luca Fanfani e proprio qualche giorno fa il passaggio di testimone con Zaccheo, avvocato dell'ambasciata congolese a Roma. Per la seconda volta il nuovo legale ha fatto visita in carcere al suo assistito e si è trattenuto a lungo con il religioso per oltre un'ora. È sereno padre Gratien, abbiamo chiacchierato un'oretta e quindi domani mattina lo rivedo per parlare di altre cose, domani sono anche in tribunale. L'ho visto molto sereno, molto tranquillo. Abbiamo chiacchierato quale sarebbe la linea di difesa, il prossimo giudizio che ci sarà, di questa cosa abbiamo parlato più o meno. Prenderò tutta la documentazione oggi pomeriggio presso lo studio di Luca Fanfani, collega. Parlerò anche con lui per un'eventuale, una cosa personale, parlerò con lui e poi domani parlerò con padre Graziano di questo. Ci potrebbe essere un cambio di strategia difensiva quindi? Ancora da vedere, questa cosa vedremo con calma. Anche la comunità congolese in Italia si è stretta intorno al proprio connazionale, proclamandone l'innocenza. Nella nostra cultura noi non ammazziamo la gente, un paese molto tranquillo, un popolo molto educato e siamo dietro padre Graziano che noi siamo convinti che è innocente. Rimanete quindi accanto a padre Graziano in questi lunghi mesi in carcere? E veramente fino alla fine, fino all'ultimo c'è centimi.